A pochi giorni dalla scomparsa di Sammy Basso, biologo e attivista affetto da progeria, il mondo online si è mosso in massa per sollecitare l'avvio del suo processo di beatificazione. La petizione, lanciata su change.org dall'account Teologia su TikTok, ha già superato le 3.000 firme in pochissimi giorni. Nel loro messaggio, già gli organizzatori della petizione affermano Sammy Basso, oltre a essere un giovane biologo di grande talento, ha incarnato la santità e la virtù cristiana. Con la sua gioia, umiltà, generosità e fede, ha mostrato cosa significhi essere un santo contemporaneo. È stato un esempio per i giovani, una fonte di speranza per chi è malato e una guida per tutti. La vita di Sammy, il suo amore per gli altri e la sua profonda fede in Dio e Gesù Cristo, ha toccato il cuore di molti. Sammy è stato un faro di luce per credenti e non credenti. La petizione invita tutti a firmare per sostenere la richiesta alle autorità ecclesiastiche di avviare il processo di beatificazione, che è il primo passo verso il riconoscimento della sua santità. Tra i commenti, centinaia di persone hanno spiegato le ragioni della loro adesione. Una persona positiva e di fede profonda, dimostrata fino alla fine. Merita sicuramente riconoscimento e attenzione. Massimo N Ho firmato perché, per la vita che ha condotto, merita davvero la beatificazione. Danilo C Firmo perché credo che questo straordinario essere umano lo meriti davvero. Livia M E tu sei pronto o pronta a firmare per la sua beatificazione? Lascia un like e un commento. Grazie Grazie